bene trovati a tutti passion moto tv alla sesto pista e la nostra pista per far provare ai vip l'emozione di andare su una mini moto siamo qua praticamente pado che vedete i piloti ma fra un po arriverà alessandro paci e raul guidotti per provare l'emozione di guidare una mini moto e i migliori tempi li premeremo in trasmissione presto dopo aver fatto questi test ok vi lasciamo a vedere quelli che hanno combinato guardate queste posizioni che si fanno? guardate un minaccio e chi te ne frega? ma un paio riguardo c'è chi c'è? ciao ci si è fatta anche la punta guardate un minaccio andata lo sapevamo andate una mese and prima sei messo il cellulite im pirata oh一個 la scia per i poi buona mi fire ma è un rispondonare quando c'era l'antenna è un rispondoso è un rispondoso è un rispondoso è un rispondoso